we che cactus fai da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice creator clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci xyuderone daie can you hear the dreaming of we bella a tutti ragazzi e benvenuti a questo velocissimo video io sono xyuder e ragazzi fortbite numero 82 uscito da pochissimi minuti come vedete ragazzi non sono da solo il primo fortbite che va preso obbligatoriamente in squad ragazzi quindi vi consiglio assolutamente di prendere tre dei vostri amici perché serviamo tutti e quattro per poterlo recuperare come vedete ragazzi sto oltrepassando il quartiere e stiamo andando in quel piccolo gruppo di alberi tra il quartiere e la pista da rally dove ci sono i drift board non so se le avevate già visti ragazzi ma qua ci sono tre piccole piattaforme eccole qua davanti e come vedete il fortbite qua nascosto ragazzi con i tre compagni di squadra che salgono sopra è possibile quindi prenderlo come vedete c'è un sacco di gente lo raccolgo in questo momento mi raccomando attenzione poi al disastro io vi ringrazio per avere guardato questo video un bel pollicione in su iscrivetevi al canale noi ci vediamo in live alle 17 ciao 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 ciao